Torna la pioggia e il nostro territorio non regge. Frane e cedimenti hanno caratterizzato il weekend ad avere la peggio Rovereto dove si è verificato un distacco di Massi che ha investito un'abitazione per fortuna al momento non abitata. Si è resa così necessaria la chiusura al traffico della strada provinciale 52 tra Valtrebbia e Valdaveto nel comune di Cerignale. Il distacco è avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale di Cariseto che collega Cerignale a Ottone. Massi si sono staccati dal versante roccioso sopra Rovereto e sono stati bloccati dalle reti metalliche di protezione poste accanto alla provinciale ma vista l'entità del distacco le reti si sono subito riempite di detriti e altri massi più piccoli che sono finiti sulla strada e contro la casa disabitata. Nonostante la chiusura della strada la viabilità alternativa è comunque garantita e nei prossimi giorni si dovrà procedere con il distacco dei massi ancora pericolanti prima di riaprire la strada. Ci vorranno altre reti protettive anche sulla parte alta del versante. La pioggia di ieri ha fatto danni anche sulla statale 45 a Ottone poco prima del bivio all'ingresso del paese si è allargata una crepa nell'asfalto risalente già la scorsa estate e già segnalata dal comune ad Anas. La pioggia caduta nella giornata di ieri ha oscillato tra i 30 mm nella zona di pianura e i 60 millimetri nella zona montana con accumuli più o meno importanti a seconda delle zone. Rimangono sotto osservazione i fiumi solo in alcuni casi sono stati raggiunti i livelli della prima soglia d'allarme prontamente rientrati in serata. Da domani però il tempo tornerà minaccioso sono previste piogge di modesta entità per tutta la settimana.